Sai tesoro, qui abbiamo un grosso problema. Con la pensione di papà non ce la facciamo più ad arrivare a fine mese. E io una mano ve l'ho data sempre, vero? Anni. Sì, ma adesso bisogna trovare una soluzione. Io la soluzione ce l'ho, sto pensando al lavoro. Bravo, bravo, io non tenivo il coraggio di dirtelo per non metterti in imbarazza, ma sarebbe ora. Sai, nella fabbrica all'angolo, cercano un manovale. Io conosco pure il proprietario, basterebbe una raccomandazione per essere assunti. Sì, ma sarà sempre difficile. Ma anche come cameriere in un ristorante. Magari, così uno esce e si distrae, ma è difficile. Ma anche come meccanico, autista, che ne so, un qualsiasi altro lavoro. Come muratore, come carpentiere, ma è sempre difficile, il discorso è sempre lo stesso. Ma qual è questo discorso? Oh padre, il vecchio, chi se lo prende a lavorare? Scorsati. Che? 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 Che?